Dobbiamo riflettere su come siamo stati creati, formati a immagine e somiglianza del Creatore e capire la dignità che tutti noi abbiamo, di uomini e di donne, dignità che perdiamo quando nel nostro cuore le ricchezze prendono il posto di Dio. Papa Francesco si è rivolto con queste parole ai partecipanti alla 44esima settimana biblica nazionale, organizzata dall'Associazione Biblica Italiana. L'Associazione, che promuove la conoscenza della Sacra Scrittura attraverso la ricerca scientifica e la divulgazione della parola di Dio, ha dedicato questa settimana di studi al tema della creazione dell'uomo e della donna. Papa Francesco ha riflettuto quindi sul dovere degli uomini di vivere con responsabilità la dignità dell'essere stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Da qui deriva anche una domanda. Come posso condividere questa dignità così che si sviluppi in una reciprocità positiva? Come posso fare in modo che l'altro si senta degno? Come posso contagiare dignità? Quando qualcuno disprezza, segrega, discrimina, non contagia dignità, ma al contrario. Ci farà bene domandarci spesso come assumo la mia dignità, come la faccio crescere. E ci farà bene anche esaminarci per scoprire se e quando non contagiamo dignità nel nostro prossimo.